... Facevo una vita normale, stavo inquadrato in una società che ha delle regole e io rispettavo le regole. Dove credi di andare? Salvatore e Sabatantuono, di nuovo insieme dopo l'Oscar per Mediterraneo. Non è la strada giusta questa qua. Siamo arrivati. Arrivati dove? Perché hai scelto Porto Scondito? Non fate pirla, eh! Non mi fanno ridere gli scherzi. Non è che in città, penso qua. Vite nascoste, avventure in vista, Porto Scondito.